Buongiorno da WTV News. Oggi, 15 dicembre, Santa Virginia Centurione. Quest'anno la giornata nazionale dello spazio cade il 15 dicembre, istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2021 per celebrare il lancio del primo satellite italiano, il San Marco I, avvenuto il 15 dicembre del 1964, che permise all'Italia di rientrare tra i primi paesi al mondo a superare l'atmosfera terrestre. Attraverso un impegno istituzionale, industriale e significativo, l'Italia ha acquisito nel tempo posizioni di leadership nel settore a livello globale, annoverandosi tra le pochissime nazioni al mondo che dispongono di una filiera spaziale completa di prodotti e competenze.